Ancora aria natalizia pochissima e il movimento è ancora singhiozzo, altallenante. Io vedo un po' l'utente che ha molta esitazione in questo momento, ha paura di spendere. Proprio oggi è una giornata particolarmente pesante un po' per tutti. È diventato difficile anche trovare la possibilità di fare dei bei regali di Natale. Poi magari alla fine ci sarà sicuramente un po' di movimento maggiore nei prossimi giorni. Si acquistano accessori, accessori appunto anche perché sono un po' più accessibili come fascia prezzo e poi veniamo sia femminile che maschile. Diciamo che la donna è un po' più capricciosa, questo si sa. Ancora gli acquisti sono proiettati in funzione dei regali di Natale. Chi si è approcciato l'ha fatto in funzione di questo. Per quanto riguarda il Capodanno ancora non c'è nemmeno aria, assolutamente. Io mi sforzo di essere ottimista tutti i giorni. Quando entro qua dentro voglio essere sempre ottimista, anche se purtroppo i tempi parlano chiaro. Non possiamo negarlo.